Musica Buon poveriggio a tutti e bentrovati in diretta a Chiediloa, la trasmissione di UDEM che mette in contatto il PD con il mondo del web e con il popolo della rete. E allora mandateci tante domande ai nostri account di Facebook, di Twitter e anche alla nostra email udemchiocciolapartitodemocratico.it Tantissime domande, cercheremo di rispondere davvero a tutti perché l'ospite di oggi è Gianni Cuperlo, candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Buon pomeriggio e grazie di aver accettato il nostro invito. Ma grazie a voi. Allora iniziamo subito, la prima domanda arriva da Brusca che le scrive su Twitter. Come intende rinnamorare la gente del nostro PD? E poi le chiedono, qual è il primo atto pubblico da segretario? Il primo atto pubblico da segretario non ci ho pensato, ma se dovessi rispondere adesso perché mi fate questa domanda direi lanciare una grande campagna di mobilitazione contro la povertà minorile del nostro paese. Nel nostro paese, noi abbiamo una maglia nera, siamo un paese d'Europa, credo di aver letto una statistica in questo senso, me ne ha parlato Livia Turco qualche tempo fa, con la più alta incidenza percentuale di povertà minorile, un minore su quattro oggi in Italia. L'Italia è un grande paese dove c'è anche ricchezza, benessere. Siamo la seconda potenza industriale dell'Europa, eppure un minore su quattro vive una condizione di difficoltà dal punto di vista delle risorse materiali e culturali a sua disposizione. Ne farei una grande battaglia di progresso e di civiltà. Sarebbe anche quello il modo, secondo me, uno dei tanti modi per, come diceva il nostro amico, restituire la passione e la speranza al popolo democratico, perché noi abbiamo un popolo straordinario che in questi mesi ha sofferto delle delusioni anche profonde, anche brucianti, in particolare il 25 febbraio, quando le aspettative erano quelle di un successo, forse non facile, ma certo di un successo, che non è venuto. E poi i giorni drammatici sull'elezione del capo dello Stato, le dimissioni di Bersani, di un intero gruppo dirigente, un trauma per una forza politica, e poi ancora la nascita di un governo che forse ne parleremo, sosteniamo in modo leale, anche incalzandolo, ma non era il governo che avevamo immaginato. Eppure questo popolo democratico non si è smarrito, non ha perduto la rotta, il sentiero, te lo ritrovi sempre lì davanti, esigente, incalzante, critico, a volte aggressivo nella critica, però io preferisco questo popolo, aggressivo e critico, all'ipotesi di un abbandono silenzioso. E invece il congresso è la conferma che questo popolo c'è e dobbiamo avere fiducia in lui. Allora, continuiamo a parlare di congresso. Sempre su Twitter, sempre sul partito, Fiorenza Tarenzi, domanda Che senso ha fare la testera PD quando chiunque può votare il nostro segretario? E poi sullo stesso argomento, Alessia Telese, ha intenzione di aumentare il peso decisionale degli iscritti se diventerà il segretario del PD e se sì come? Sono due questioni molto serie, cominciamo dalla prima. Noi siamo l'unico partito, credo non solo in Italia, in Europa, ma forse in Occidente, che elegge il suo segretario con un voto aperto a tutti gli elettori. Solitamente i segretari dei partiti vengono eletti dagli iscritti a quel partito, a quel soggetto politico. Le ragioni per cui noi abbiamo scelto una strada diversa sono legate all'atto di nascita del PD che, come ricordiamo tutti, quando vide la luce, interpretò un'idea dell'evoluzione del bipolarismo italiano più tendente verso un modello bipartitico, due grandi partiti, uno nel centro-sinistra, il PD, uno nel centro-destra e quindi era abbastanza naturale la coincidenza tra la leadership di quel partito e l'individuazione di una candidatura condivisa alla guida del governo, da cui le elezioni primarie aperte a tutti. Certo, poi le cose sono andate in un modo diverso, anche le ultime elezioni che non abbiamo vinto, noi non ci siamo presentati da soli, l'autosufficienza non ha pagato, perché noi non siamo autosufficienti, non bastiamo a noi stessi, molto di buono c'è fuori da noi e quindi abbiamo dato vita ad una coalizione. Le stesse primarie che hanno incoronato Bersani contro Renzi un anno fa erano primarie di coalizione, di tutto il centro-sinistra. Forse si potrà tornare a ragionare su questo, sulla possibilità di avere delle regole diverse. Io mi sono posto a cambiare le regole in questo congresso perché non c'era l'accordo di tutti i candidati, a partire dal sindaco di Firenze a fare questa modifica e credo sia giusto rispettare da questo punto di vista l'impostazione che ci siamo dati, però penso che all'indomani di questo congresso, chiunque vinca, fare una discussione molto seria su cosa intendiamo per un partito politico e per i diritti degli iscritti sia una questione molto giusta e molto urgente e così arriviamo alla seconda domanda che è legata a come restituire un ruolo e un valore agli iscritti. Io ho letto, credo ieri mattina, una intervista del sindaco di Bari che diceva adesso anche alla luce delle polemiche sul tesseramento gonfiato, facciamo una cosa un po' brusca, ma com'è nello stile e nel carattere dell'uomo, lo dico con simpatia, aboliamo gli iscritti e anche qualche altro esponente del nostro partito ha detto, ma di fronte alla situazione che si è determinata, la cosa che conta è il voto dell'8 di dicembre, le primarie aperte a tutti, allora cosa stiamo a fare un passaggio ulteriore nelle sezioni, nei circoli con il voto degli iscritti? Andiamo direttamente all'8 dicembre e mettiamo la decisione nelle mani degli elettori? No, io rispondo veramente con compassione, non so se riesco ad essere creduto di no, non è questa la via perché un partito senza iscritti è come una democrazia senza elezioni, non è data, non esiste in natura, gli iscritti ad un partito sono un popolo che si riconosce in quella forza, in quella cultura politica, in quella funzione, in quel ruolo e debbono essere considerati il patrimonio fondamentale di quel partito, io immagino una modalità di partecipazione, di discussione, di decisione alle scelte fondamentali, di indirizzo, di linea politica, di programma del partito democratico che veda gli iscritti assolutamente protagonisti perché tu non puoi rivolgerti a migliaia, centinaia di migliaia di persone, soprattutto quelli più giovani dicendo venite in questo partito perché ogni tanto montiamo i gazebo e facciamo le primarie, devi montare i gazebo, devi fare le primarie ma devi dirgli venite in questo partito perché è lo strumento che noi mettiamo a vostra disposizione per riscoprire quella capacità formidabile che ha la politica di organizzare in modo collettivo gli interessi e l'emancipazione di una parte e di pezzi della società e in questo senso l'idea di, come dire, deprimere, di continuare a colpire dopo gli anni che abbiamo alle spalle i corpi intermedi della società che sono i partiti, le aggregazioni politiche ma anche le forze sociali è una scelta, è un'idea che a mio modo di vedere tende inevitabilmente verso una cultura che favorisce la destra perché è la destra, non parlo adesso della destra italiana, dello specifico del nostro caso, ma è la cultura della destra, della grande destra che ha sempre teorizzato un rapporto individuale e solitario tra la persona, il cittadino e il potere, ma se tutto si riduce ad un rapporto individuale e solitario tra il singolo e il potere sarà sempre il potere anche quando viziato ad avere la meglio e la politica, gli strumenti che la politica ha messo a disposizione delle persone nel corso degli anni e dei decenni che abbiamo alle spalle, l'invenzione dei partiti di massa, della partecipazione democratica sono il principale antidoto contro un'idea della democrazia che impoverisce la vita delle persone, la loro dignità e i loro diritti, io penso a un partito che riscopra questo valore. Poi come applicare questa impostazione lo discuteremo, io penso che noi dovremmo chiedere ai nostri iscritti di essere più presenti nelle scelte, nelle decisioni. Allora, io la voglio un attimo interrompere, perché su questo oggi c'è un'intervista di Renzi a Repubblica che parla proprio anche di iscritti, ne voglio leggere due passaggi, finché abbiamo ottenuto il bandolo sui problemi veri, lavoro fisco, legge elettorale, come è avvenuto alla Leopolda, andava tutto bene, poi Cuperlo e Civati hanno cominciato a denunciare il caso degli iscritti, e poi ancora, mi ha colpito l'atteggiamento del comitato Cuperlo, hanno voluto mettere delle bandierine sui segretari provinciali, una gara assurda. Volevo chiedere come rispondere a queste dichiarazioni. Guardi intanto con una premessa, che spero di essere creduto anche in questo senso, perché da questo punto di vista ci sono le prove. Io in queste settimane, in questi mesi non ho avuto mezza parola di polemica verso nessuno degli altri candidati alla guida del PD. Non mi interessa farla quella polemica, mi interessa provare a raccontare la nostra idea del Paese, la nostra idea del Partito Democratico. Non c'è stata nessuna volontà di piantare delle bandierine, anche perché sono vicende diverse, c'è una fase del congresso che si è svolta per l'elezione dei segretari di circolo e di quelli provinciali. Adesso, credo oggi, inizino i congressi di circolo per discutere e votare sulle piattaforme nazionali e sulle candidature. Noi tutti, credo, siamo impegnati a raccontare la nostra idea di Partito Democratico e di Paese. Poi ci sono delle differenze. Anche noi abbiamo parlato in questi mesi essenzialmente di come restituire una centralità alla persona, il valore sociale del lavoro, la dignità di ogni essere umano, come ripensare l'Italia dopo la crisi più devastante degli ultimi decenni. Ma su questi terreni, su come riformare il mercato del lavoro, su come dare diritti e potere e voce e rappresentanza a chi non ce l'ha, ci sono delle differenze. La Leopoldo è stato un evento significativo, molto seguito dall'attenzione dei media, dell'informazione, ma in quella manifestazione che è durata tre giorni ci sono state tante parole condivisibili, ci sono state anche parole che io personalmente non condivido. Un giovane finanziere molto noto dalla City di Londra è piombato a Firenze, è salito su quella pedana, su quel palco e ha detto che la responsabilità, se l'Italia oggi è nelle condizioni in cui è, è tutta dei partiti, dei sindacati, dei pensionati che hanno rubato il futuro alle generazioni più giovani e io ho detto che mi sarei atteso da parte di chi aveva promosso quell'evento e anche da parte di tante personalità di primo piano nella vita della sinistra italiana e del Partito Democratico di questi anni che salissero a loro volta su quella pedana e dicessero no, stai sbagliando, non è quello l'obiettivo e se noi siamo in questa condizione ci sono stati anche limiti ed errori della nostra parte, nessuno li mette in dubbio, ma il centro-sinistra, i partiti, quei sindacati, quei pensionati sono le forze, le energie e le risorse che al netto dei loro errori e dei loro limiti hanno consentito a questo Paese di non naufragare nel ventennio difficile che abbiamo alle spalle, quando la destra ha fatto ogni cosa per tentare, quando è stato al governo, per tentare di colpire alcuni dei principi cardine della nostra Costituzione, alcune delle regole fondamentali della nostra democrazia, l'equilibrio dei nostri conti pubblici, i diritti e le garanzie e le tutele per le persone che lavorano, era forse una corbelleria opporsi alla modifica, allo stravolgimento dell'articolo 18, era forse un errore opporsi allo stravolgimento dei diritti dei lavoratori dentro i luoghi di lavoro e dentro la fabbrica, no, erano battaglie giuste, non tutte le abbiamo vinte ma le abbiamo condotte, bisogna anche recuperare l'orgoglio di una parte e quando ragioniamo di questa destra e di questa crisi che è la più grave degli ultimi decenni non possiamo che mettere in collegamento il collasso che l'Europa ha vissuto e conosciuto e che l'Italia ha vissuto e conosciuto in questi anni con le scelte prima di tutto culturali oltre che programmatiche di governo e politiche che la destra ha messo in campo, loro, quando dico loro dico la destra, il grande pensiero della destra, verso il quale devi avere anche l'attenzione e la capacità di cogliere nella profondità e anche la forza, loro sono riusciti a modificare nella coscienza di milioni e milioni di persone una cosa molto delicata e molto importante che è il giudizio morale sulla diseguaglianza e noi abbiamo subito in modo subalterno dal punto di vista culturale quella loro offensiva, siamo in grado noi oggi di mettere in campo i pilastri, le fondamenta, di scavare le fondamenta di una nuova stagione di emancipazione e di liberazione per una parte importante del paese e dell'Europa nei rapporti con l'economia, con la democrazia, con la scienza, sono temi che certo poi hanno una ricaduta programmatica, allora devi dire cosa vorresti fare della riforma del welfare, del mercato del lavoro, del sistema previdenziale, della redistribuzione delle risorse, della tassazione, però dentro è una cornice dove tu recuperi anche l'orgoglio della tua parte, dei tuoi valori, della storia che hai alle spalle, non perché devi camminare con i piedi verso l'avanti e la testa rivolta al passato, ma perché io sono convinto che quei principi e quei valori della sinistra e di una parte importante della sinistra italiana che coincidono anche con i principali valori scolpiti nella nostra Costituzione, sono la leva che noi dobbiamo ricollocare nel futuro di questo Paese per portare l'Italia dove merita di stare, dove avrebbe meritato di stare già da molto tempo e cioè sulla frontiera più avanzata della modernità e dell'Europa. E su questo naturalmente c'è un passaggio fondamentale che è anche quello della rappresentazione, del racconto di quello che la politica fa. E allora ancora sulle primarie e su come queste vengono raccontate, Fabio Bussotti vuole sapere se non si sente danneggiato dall'avere con sé quella che definisce la vecchia guardia e mette tra parentesi i nomi di D'Alema, Bersani e Marini. E poi su Facebook Adele Vignola chiede perché Gianni Cuperlo è visto come la conservazione mentre gli altri sarebbero il rinnovamento? Forse la prima domanda e la risposta è la seconda, o la seconda è la risposta è la prima. No, ma io non mi sento imbarazzato, però voglio far notare una cosa. Noi siamo un grande partito, siamo il principale partito del centro-sinistra di questo Paese che sta affrontando una bella discussione sul suo avvenire, sul suo futuro, schierando una rosa di candidati. L'unico limite di questa avventura, di questo congresso è che si tratta di quattro uomini e che non c'è nemmeno una donna, ma non lo dico per un aspetto, una battuta formale perché sono davvero convinto che sia un limite di cui dobbiamo farci carico, ma quattro candidati che tutto sommato, seppure con età e profili diversi, appartengono ad una nuova generazione o comunque ad una nuova stagione. Questo è un fatto molto importante, molto positivo. Io l'anno scorso, ebbi modo di dirlo in un'attenzione molto meno rigorosa di quanto non mi possa capitare adesso, ma non ho mai condiviso quello slogan sul quale il sindaco in differenza ha costruito una parte importante della sua comunicazione durante le primarie contro Bersani, l'idea di una rottamazione. Ho sempre trovato abbastanza odioso il termine, se applicato alle persone, ma non mi convinceva l'ispirazione. Io sono convinto che abbiamo bisogno di un profondo rinnovamento, non solo nella leadership, che è una parola che non mi spaventa, ma che non trasformerei mai in un totem. Abbiamo bisogno di un rinnovamento profondo, non solo nella leadership, ma nella selezione dei nostri gruppi dirigenti, della nostra classe dirigente, ma penso anche che lo dobbiamo fare con una capacità di relazione con quella che sono, come dire, il passato di questo partito e coloro che hanno consentito di arrivare fino qui, anche con degli errori, anche vivendo dei limiti, e assumendosi dei rischi. Però è importante che in un passaggio di testimone tra generazioni diverse e stagioni diverse vi sia questa forma di rispetto. Le persone che sono citate, in particolare D'Alema e Marini, oggi non siedono nel Parlamento. Bersani ha guidato il Partito Democratico per 4 anni ed è una persona che si è fatta carico anche oltre le sue effettive responsabilità del peso di quella sconfitta. Credo che noi dobbiamo ricostruire anche il clima, il senso di una comunità. C'è un vecchio, credo antico, non vecchio, proverbio orientale che dice quando vai a prendere l'acqua al pozzo ricordati sempre di chi lo ha scavato. E in fondo in quella saggezza c'è qualcosa di profondamente vero che riguarda anche la politica e che riguarda anche la sinistra. Io chiuderei questa prima parte delle domande più sul Partito Democratico, più interne, con la domanda che arriva dalla rete da Edoardo Gasparotto, che vuole sapere se sarebbe disposto a fare il segretario del PD con Renzi Premier e poi aggiunge il PD andrebbe al massimo. Ma io sarei disposto a fare il segretario del PD ed è stata per me già una piccola violenza candidarmi a questo ruolo. Ma io l'ho detto tante volte, il sindaco di Firenze è una persona che gode di una grande popolarità, di un consenso. Ho anche apprezzato il coraggio che ha dimostrato nell'affrontare la vicenda politica delle primarie l'anno scorso in una condizione oggettivamente più difficile di quella che ha oggi dal punto di vista almeno del sostegno mediatico che lo accompagna. Penso che stiamo parlando di due momenti distinti. Anzi, se me lo consente, usiamo anche questa occasione per fare la chiarezza necessaria. L'8 di dicembre noi andremo a votare, tutti i cittadini che lo vorranno fare, potranno farlo. Quando dico tutti i cittadini, mi permette di chiarirlo anche in questo caso, gli elettori del PD. Quindi tutti gli iscritti. No, no, gli elettori del PD. Gli iscritti sono quelli che hanno pieno diritto di partecipare i congressi dei circoli. In questi giorni si stanno svolgendo, si concluderanno domenica 17 novembre per individuare le piattaforme che poi andranno alle primarie e i candidati che andranno alle primarie dell'8 dicembre. L'8 dicembre sono elezioni primarie aperte, aperte, lo dico tre volte, aperte agli elettori del PD che aderiscono attraverso una firma e una sottoscrizione al programma, alla piattaforma, alla funzione che il PD vuole svolgere nel prossimo anno in questo paese. Cioè l'8 dicembre si elegge il segretario del PD, non si sceglie il candidato alle prossime elezioni politiche. Poi ci sarà un tempo diverso, non so dire quando, potrebbe essere pochi mesi, potrebbe essere un anno, potrebbe essere di più. Oggi un governo è in carica e il Presidente del Consiglio, peraltro è un esponente molto autorevole del nostro partito. Quando ci sarà quel secondo momento, ci saranno delle nuove elezioni primarie, su questo non c'è dubbio, non c'è possibilità di equivoco, di ambiguità da parte di nessuno. Ci saranno nuove elezioni primarie dove si confronteranno delle candidature diverse, non escluda affatto che una di queste candidature potrà essere quella del Sindaco di Firenze insieme ad altri o altre, e gli elettori del centro-sinistra, non solo del PD, del centro-sinistra che avremo costruito in quel momento. ed è un punto oggetto della discussione, perché noi stiamo discutendo come se domani ci fossero le elezioni politiche, ma non è così, dobbiamo affrontare il tema dell'alternativa, quale centro-sinistra vogliamo presentare agli elettori italiani quando verrà il momento di ritornare alle urne. È come se ci fosse una rimozione. È come se ci fosse una rimozione in questo momento. Noi abbiamo perso le elezioni di febbraio, è nato il governo delle larghe intese, abbiamo, se lei ci fa caso, accantonato anche nelle conversazioni tra di noi, persino nelle discussioni, nelle interviste che ci capita di fare, ponendo le domande o, come nel mio caso, cercando di dare delle risposte, quasi mai si va al punto che io considero un punto assolutamente centrale per il dopo 8 dicembre, cioè, ma noi l'alternativa di centro-sinistra, come la costruiamo in questo Paese? Ci spingiamo a dire tutti all'unisono che bisogna cambiare la legge elettorale, Dio solo sa se non è vero che bisogna cambiarla, e che la prossima volta torneremo a un bipolarismo maturo tra il centro-destra che ci sarà e il centro-sinistra che costruiremo, ma vogliamo tornare a concentrarci anche su quell'idea del centro-sinistra, che dal mio punto di vista non può essere la riproposizione di Italia bene comune, la coalizione di febbraio, non soltanto perché abbiamo perso, ma anche perché non basta, nelle condizioni in cui oggi è il nostro Paese, per l'impatto che la crisi ha avuto sull'Italia, non basta mettere insieme, sommare le sigle esistenti, noi dobbiamo ripensare a questo partito come lo strumento capace di ricostruire un rapporto profondo con la società italiana, le forze del civismo, i movimenti, le associazioni, le forze della legalità. Per ricostruire questo rapporto le voglio chiedere un po' una dopo l'altra su alcune questioni come la pensa. Sono lungo, vero? Mi dicono sempre che sono lungo. No, no, sta rispondendo in maniera naturalmente esaustiva, saranno contenti tutti gli utenti che ci hanno mandato le domande. Ma è una critica che dicevo. Noi abbiamo tantissime domande e vorrei cercare di accontentare più possibili utenti. Allora, Settimio, ci pone una questione morale scrivendo, se non si riparte dall'onestà a qualsiasi livello per il nostro Paese sarà impossibile. Su questo come riconquistare la fiducia? Un problema molto serio perché il tema dell'onestà non è soltanto il settimo comandamento, credo sia il settimo comandamento, ovvero non vorrei incorrere in un graf terribile, non significa soltanto non rubare e astenersi da comportamenti illeciti o criminali, no, questo direi che è scontato. Il problema dell'onestà forse in questo nostro Paese ha anche altri aspetti che vanno valorizzati, cioè la possibilità di restituire a milioni di persone la fiducia in un'idea della giustizia come garanzia dei diritti di ogni persona, di ogni cittadino. E in questo senso la commistione tra poteri diversi che spesso negano questa percezione di giustizia, di una giustizia possibile come diritto, è qualcosa che è profondamente radicata nella storia del nostro Paese. Se lo ricorda a scuola quando ci facevano leggere un po' di malavoglia ai noi, i Promessi Sposi, e c'è un capitolo, la prima parte del romanzo, non mi ricordo se è il quinto, quando Fra Cristoforo sale al palazzo di Don Rodrigo per rappresentare gli interessi e i diritti di Renzo Tramaglino. E di Lucia, sì, sì, delle riniscenze scolastiche. E lui entra nella sala dove sono attovagliati a cena Don Rodrigo, il conte Attilio, il cugino amico di scorribande. E poi al tavolo Fra Cristoforo vede che ci sono anche il podestà e la zecca garbuglia, a cui Renzo si era rivolto nel capitolo precedente, credo con i famosi capponi. E cioè si rende conto, la percezione è quella che chi dovrebbe garantire i diritti del suo assistito, del suo protetto, in verità ha un rapporto di commistione con chi è l'espressione di un potere autoritario e provocatore nei confronti di quei diritti. Ma non è un caso che stia lì nel capitolo di un'opera storica dell'identità nazionale di questo paese. L'onestà è restituire alle persone, a milioni di persone, la certezza del diritto che si è rispettati per ciò che si è, per la propria natura di cittadini dotati di diritti e anche di responsabilità e dunque di doveri, ma rispettati nella dignità profonda e intima di ogni persona e non per il potere che si ha, che si detiene, o per il sistema di relazioni. Mi perdoni, ma io la tartasso perché ho tantissime altre domande. E siamo finiti addirittura in mangiù. Silvana Dallera le chiede qualità gli vorrebbe fare parlamentari, spesa politica, province, burocrazia, pensioni d'oro, top manager, F35, TAV. Mentre Tami le domanda come lo Stato può e deve difendere le fasce più deboli, bambini e anziani? Ma sui bambini ho detto all'inizio, le fasce più deboli le dovremmo difendere innanzitutto con delle azioni concrete. La legge di stabilità che è approdata in Parlamento al Senato è una legge che contiene dei tentativi nella direzione giusta, una legge che per la prima volta dopo diversi anni non prende ma cerca di restituire qualcosa. Però a proposito di questa seconda domanda è chiaramente troppo poco. Prenda il fondo per la non autosufficienza. Io non sono più riuscito a togliermi dalla testa, dal pensiero, l'immagine di questo medico che qualche settimana fa ha manifestato con persone colpite come lui da una grave patologia davanti al ministero. E allora vai a capire, a cercare di vedere nel dettaglio di che cosa stiamo parlando e stiamo parlando del fondo per la non autosufficienza che ha postato in bilancio nella legge di stabilità per il 2014 280 milioni di euro. E certo è la battuta del bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto, rispetto alla destra che aveva sostanzialmente azzerato quel fondo noi abbiamo rimesso 280 milioni di euro. Ma soltanto la regione Emilia-Romagna per la stessa voce di bilancio stanzia a regime, a sistema, cioè non rinnovandolo anno dopo anno ma garantendo che quella cifra è tutelata, 450 milioni di euro. Quasi doppio, c'è qualcosa che non funziona. Bisogna, e vengo alla prima domanda, andare a colpire quelle che sono e ancora esistono e sono molte sacche di privilegio, di rendite. Vuole fare qualche esempio? Beh, l'esempio che veniva fatto sulle pensioni d'oro. Ci hanno detto, quando in agosto il Sole 24 Ore ha pubblicato quella pagina di assegni previdenziali erogati dall'Inps sulla base del vecchio sistema retributivo, assegni da 40-45 mila, uno se lo ricordano 91 mila euro mensili, ci hanno detto ma non fate della propaganda, sono sì e no 680-700 assegni che hanno quell'entità. A parte che c'è anche qualcosa che riguarda la simbologia, perché anche se fossero meno di 680-700, c'è un punto che riguarda il differenziale che l'Inps dovrebbe reso contare tra i contributi effettivamente versati da ciascuna persona e l'entità dell'assegno previdenziale riscosso. Perché se come io penso, noi pensiamo in molti casi che non sono solo le pensioni d'oro ma anche quelle d'argento e quindi pensioni sono molto più numerose nel numero e che hanno assegni previdenziali più contenuti, ma certamente molto più significativi di 5-6 volte il minimo che riguardano milioni di pensionati, se si dice che quelli sono diritti acquisiti, beh allora c'è qualcosa che non torna, perché se sono diritti acquisiti quelli erogati a persone che hanno un profondo differenziale tra i contributi effettivamente versati l'assegno riscosso, allora noi dobbiamo poter spiegare perché non sarebbero diritti acquisiti quelli di una donna di 60 anni e 20 anni di contributi regolarmente versati che attendeva sino all'anno scorso di andare in pensione, una pensione che tecnicamente si chiama di vecchiaio, un assegno credo lordo di 680 euro mensili e di colpo il governo le comunica che deve aspettare 5-6 anni prima di riscuotere quell'assegno. Perché quelli non sarebbero diritti acquisiti? Allora noi dobbiamo in termini davvero di redistribuzione e di equità e mi lasci dire di giustizia ricostruire un principio di certezza del diritto e della qualità della vita per tante persone e se ragioniamo di previdenza questo ci deve portare a reintrodurre un principio di gradualità nell'uscita. Noi abbiamo una proposta da 62 a 70 anni con un tasso di penalizzazione massimo dell'8% oppure dobbiamo su un altro versante cercare di garantire la continuità dei contributi figurativi da un mestiere all'altro per i giovani, le ragazze, parlo della sua generazione, quelli più giovani di lei che oggi si ritrovano in una condizione dove può darsi che sia vero, anzi è vero che abbiamo con le riforme fatte messo in sicurezza il sistema previdenziale. Si parla di un risparmio atteso e prodotto per le casse dell'Inps da questa riforma che dal 2012 al 2021 potrebbe girarsi intorno agli 80 miliardi di euro ma sulla base di questa operazione rischiamo di mettere in discussione i diritti futuri dei nostri figli e dei nostri nipoti e questa è una responsabilità che non possiamo assumersi. Noi continueremo con le domande sui temi economici però apriamo una parentesi sulla recente e dolorosa storia del PD perché Paolo 55 vuole sapere, Gianni Cuperlo ha condiviso e votato la candidatura di Romano Prodi alla presidenza della Repubblica? Sì l'ho votata, è una vicenda molto complessa che dovremmo ricostruire nei diversi passaggi, non voglio rubare troppi minuti, noi abbiamo convocato una direzione del nostro partito alla vigilia della riunione dei grandi elettori in Parlamento per l'elezione del Capo dello Stato e il segretario del partito che allora era Bersani chiese un mandato pieno da parte della direzione che glielo diede all'unanimità per verificare con l'altra parte politica la possibilità di giungere ad una candidatura ragionevolmente condivisa ma espressione del nostro campo, del centro-sinistra. Quella candidatura venne individuata nella persona di Franco Marini e tutti ricordano come la vicenda si sviluppò, cioè con un aperto dissenso e con un voto che non si manifestò da parte di oltre 200 dei grandi elettori del Partito Democratico. Da lì si è passati ad una svolta di impostazione politica con la candidatura il giorno successivo di Romano Prodi, le vicende che hanno caratterizzato quel voto, i 101 voti mancati, è stato uno dei passaggi, forse il passaggio più grave e più drammatico perché coinciso con un suicidio politico in quel passaggio, in quel frangente specifico ma anche con un messaggio che all'esterno è arrivato forte e chiaro di un partito che nel momento più solenne come era l'elezione del Capo dello Stato è mancato clamorosamente all'assunzione di una responsabilità collettiva. Allora, il Popolo del Web vuole sapere, come l'avevo anticipato, cosa ne pensa lei di alcuni temi economici. Allora, Paola Baraldi scrive Il patto di stabilità paralizza l'attività degli enti locali e non permette la ripresa economica locale. Quali proposte? Assolutamente la linea deve essere quella di modificare quel patto, di incidere su quel patto. Ora, la legge di stabilità che approda in Parlamento introduce un primo elemento di novità in questo senso perché sblocca risorse per un miliardo di euro che vanno a vantaggio degli enti locali per la possibilità di investimenti in opere pubbliche immediatamente cantierabili e sono questioni assolutamente urgenti per tanti motivi che conosciamo. Ma anche in questo caso bisogna fare di più nel senso che noi abbiamo comuni virtuosi che hanno risorse a disposizione congelate nella cassaforte, nella cassa perché vincolati al rispetto di un patto che in una fase di crisi acuta come quella che stiamo attraversando è un controsenso sul piano logico non è soltanto un problema che riguarda il bilancio dei singoli comuni è proprio una questione che ha a che fare direttamente con l'efficienza, la qualità dei servizi erogati i comuni sono stati letteralmente strangolati in questi anni di crisi dal punto di vista dei trasferimenti monetari dello Stato al sistema delle autonomie locali abbiamo ridotto questi trasferimenti di molti miliardi di euro Quindi lei sarebbe avuto un sblocco di queste risorse Sicuramente sì, ma perché da un lato tu non puoi strangolare l'attività amministrativa dei comuni abbiamo dei sindaci di una generosità e di una capacità di un'efficienza straordinaria lo dico da uomo di parte, di partito non parlo solo dei sindaci del PD che sono sicuramente bravissimi parlo anche di sindaci di altre forze politiche che vivendo a contatto prossimo con i problemi dei cittadini sono quelli che più hanno la sensibilità per capire che strangolare i bilanci di queste amministrazioni significa inevitabilmente poi rivalersi sulla qualità della vita dei cittadini sulla qualità dei servizi, la loro efficienza verrebbe da fare una riflessione sulla percentuale di asili nido in rapporto ad altri paesi europei ma tutto questo ha a che fare con che cosa? Con le risorse a disposizione liberiamole queste risorse interveniamo dove ci sono stati sprechi abusi, inefficienze però liberiamo queste risorse e mettiamo gli amministratori locali che sono un patrimonio inestimabile di buona politica in gran parte un patrimonio inestimabile di buona politica mettiamoli nella condizione di fare il loro mestiere Allora, da Facebook le scrive Patrizia Benini che è moglie di un esudato apprezziamo sinceramente la tua continua attenzione verso la questione degli esudati credi che il PD sarà compatto nel sostenere gli emendamenti che saranno presentati dagli onorevoli parlamentari della commissione del lavoro perché i discorsi di sostegno danno speranza ma in Parlamento ci vogliono i fatti Sì, sosterremo compattamente gli emendamenti che vanno nella direzione di allargare la platea dei cosiddetti salvaguardati finora ci sono stati tre decreti su questo punto il primo ha salvaguardato 65 mila lavoratori esudati il secondo 55 mila il terzo ha poco più di 10 mila il governo nella prima bozza di legge di stabilità parlava per bocca del ministro Giovannini di altri 6 mila lavoratori e lavoratrici da salvaguardare saliremmo a poco più di 145 mila ma ne restano altre decine di migliaia è molto importante da un lato che l'Inps dia con chiarezza la scansione dei tempi e dunque ci consente di capire quali sono le emergenze immediate dal punto di vista della corresponsione di un assegno previdenziale a chi è rimasto materialmente è improvvisamente privo di reddito di ammortizzatore sociale e di assegno di previdenza ma dall'altra parte c'è una questione della ragione per la quale io mi sono permesso in queste settimane mesi di insistere ogni volta che ho potuto su questo tema dall'altro c'è un problema che riguarda la dignità di queste persone io l'ho detto tante volte perché mi è capitato molto spesso di incontrare questi lavoratori a margine delle nostre assemblee degli incontri andando a Genova alla festa nazionale del PD via settembre ho fatto il viaggio da Roma a Genova a fianco a uno di questi lavoratori e mi ha spiegato la cosa esattamente in questi termini mi ha detto vede forse voi non avete compreso fino in fondo la condizione che vive ciascuno di noi perché non è solo il problema che a fine mese in molti casi non abbiamo la certezza di un reddito che è poi l'elemento che sostiene l'economia della famiglia la vita delle persone ma c'è un problema di dignità e questo rapporto tra il valore sociale del lavoro lo riconoscimento della persona che lavora il diritto al lavoro come diritto alla dignità è un aspetto assolutamente decisivo determinante non solo in relazione alla vicenda degli esodati è un aspetto molto negativo di quella riforma ma in generale rispetto ad un vuoto che noi abbiamo lasciato evolvere maturare nel corso di questi anni ci siamo occupati troppo poco di questo aspetto mentre quando parliamo del diritto al lavoro anche delle generazioni più giovani il capitolo della dignità è assolutamente decisivo per fare di quella battaglia una grande battaglia collettiva e d'altra parte questo l'hanno capito anche le figure più autorevoli di una disciplina morale e di una testimonianza elevata alla quale guardare con tutto lo rispetto dovuto un mese fa un mese e mezzo fa quando Papa Francesco è andato a Cagliari che è una terra molto colpita dalla crisi di fronte a decine di migliaia di persone che assistevano alla Messa ad un certo punto ha abbandonato il testo l'Omelia scritta e ha non so se improvvisato ma comunque non è molto importante se l'abbia improvvisata lì per lì o se fosse una scelta pensata però ha recitato una preghiera un'invocazione al Signore che non era semplicemente di far cadere la benedizione su quelle persone rimaste senza un lavoro ma la preghiera diceva Signore aiutaci a lottare per il lavoro e in questo c'è anche l'elemento che noi dovremmo recuperare fino in fondo e fare nostro della capacità di organizzare di organizzare le forze il conflitto il conflitto lo dico io naturalmente che sono un uomo politico ma il conflitto per l'affermazione dei diritti non è una parola impropria nel lessico della politica e soprattutto della sinistra il conflitto non è nemico della buona democrazia l'idea di una democrazia depurata dal conflitto che qualcuno ha coltivato nel corso di questi anni è in verità un grande errore perché nella storia la storia ci insegna e ci ammonisce su questo punto dove c'è dove c'è un conflitto regolato dove ci sono forze che si organizzano per l'affermazione dei propri diritti dei propri interessi delle proprie libertà della propria dignità lì la democrazia diventa più forte più solida non più fragile e più vulnerabile Allora le faccio un'ultima domanda siamo in chiusura sull'Europa Amedeo Medei le chiede di pronunciarsi chiaramente sul PSE in Europa Intanto c'è una bellissima notizia che Amedeo forse ha letto e cioè che ieri il PSE ha formalmente chiesto al Partito Democratico di poter ospitare a Roma dal 28 febbraio credo ai primi giorni di marzo il congresso del Partito del Socialismo Europeo Guglielmo Epifani con una scelta che io condivido profondamente ha detto che saremo felici di questa opportunità sarà anche l'occasione di lanciare la campagna elettorale in vista del voto dell'anno prossimo per il rinnovo del Parlamento Europeo e sarà anche l'occasione per fare in modo che il Partito Democratico senza più ambiguità maturi il suo rapporto con quella campo e con quella forza non si tratta di fare assorbire il PD dentro il PSA si tratta di proseguire sulla strada che abbiamo tracciato in questi anni con la nascita del gruppo a Bruxelles a Strasburgo dei Democratici e dei Socialisti nel quale siamo pienamente inseriti con ruoli di grande responsabilità e di lavorare insieme ad un allargamento di quel campo perché anche la sinistra europea quella di impianto più tradizionale di ispirazione socialista laborista socialdemocratica oggi è di fronte a interrogativi e domande che riguardano il mondo e l'Europa e per noi diciamo l'Italia dopo la crisi e dopo la destra dopo questa crisi e dopo la cultura di questa destra allora io penso ad un allargamento di quel campo e alla possibilità di dar vita ad una vera e grande forza unitaria ad un grande partito dei democratici e dei progressisti dei socialisti dei progressisti europei dentro il quale il partito democratico italiano svolga quella funzione fondamentale che ha già iniziato a svolgere e che sempre di più siamo destinati ad assolvere nei prossimi anni allora grazie per essere stato qui con noi per aver risposto alle tante domande e grazie naturalmente a voi per averne mandato così appuntamento con Chiediloassi alla prossima settimana grazie